20 anni di denominazione di origine protetta per il prosciutto toscano che festeggerà questo traguardo con degustazioni, eventi e show cooking in programma a Firenze. Iniziative per immergersi nella storia di uno dei prodotti principi dell'agroalimentare della Toscana attraverso i volti e racconti dei produttori, delle comunità e dei territori. Le danze si apriranno il prossimo 28 novembre a Italy Firenze. Saremo presenti per l'intera prossima settimana presso i locali di Italy, la mattina accogliendo soprattutto studenti delle università americane a cui mostreremo il prodotto, come si affetta, come si conserva, come si produce soprattutto, invogliandoli e chiedendogli poi di ridiffondere le notizie, le impressioni sul prosciutto toscano attraverso un tweet sui loro canali social. Poi il pomeriggio avremo dei bellissimi incontri, bellissimi appuntamenti legati al mondo, alla storia, alla produzione del prosciutto toscano attraverso le parole dei nostri consorziati più rappresentativi. Avremo anche un momento molto interessante che consiglio a tutti, assieme agli esperti delle coltellerie Berti e consigli di scarperia, perché il prosciutto toscano si gusta nella miglior maniera affettato a mano, è parte della tradizione astronomica di questa regione, quindi assieme ai maggiori esperti della manifattura del mondo delle lame avremo i nostri produttori che spiegheranno come servire e porzionare al meglio questo splendido prodotto. Avremo poi dei momenti più prettamente gastronomici in cui spiegheremo i migliori abbinamenti culinari e i migliori abbinamenti enologici che possono accompagnare il prosciutto toscano. Avremo anche poi dei momenti di piacevolezza musicale e invitiamo il pubblico a venirci a sentire in tutti i sensi perché sponsorizzeremo e accompagneremo i due concerti dei Modà al Mandela Forum e il concerto di Fiorella Mannoia al Teatro Verdi. La DOP che certifica e garantisce il prosciutto toscano è legata a un rigido disciplinare che impone l'utilizzo per la lavorazione e la produzione di suini rigorosamente nati, allevati e macellati in Toscana o in altre regioni limitrofe. Il gusto delicato ma colorito e intenso si ottiene poi grazie a un'attenta lavorazione del prodotto che segue i tempi della natura, della selezione delle cosce fresche passando per la rifillatura e poi ancora salatura, prestagionatura, sugnatura e poi infine spillatura e marchiatura. Fasi che durano un anno, un anno nel quale ogni produttore riserva grandi attenzioni al prosciutto affinché arrivi sul mercato senza difetti di fabbrica. Oggi questo prodotto eccellente proverà a confermare il proprio successo sui mercati internazionali a partire da quello americano. Qui credo che ci sia una partita rilevantissima da giocare in termini di promozione ma io sono convinto che la qualità del prodotto sia tale che ci permetta nel giro di poco tempo effettivamente di acquisire quote importanti anche di questo mercato. Il che vuol dire che potremmo sviluppare tutta la filiera sul nostro territorio, rafforzare la produzione primaria, rafforzare l'aspetto legato alla trasformazione e questo ci permette quindi nuovi processi anche di carattere occupazionale, nuovi investimenti sul nostro territorio e una sempre crescente conoscenza da parte dell'agroalimentare toscano voglio dire in giro per il mondo. Gli eventi si concluderanno il prossimo 7 dicembre con un convegno a Palazzo Sacratistrozzi di Firenze, sede della Presidenza della Regione Toscana con il convegno prosciutto toscano 20 anni DOP al quale parteciperanno non solo le istituzioni ma anche quei produttori che hanno fatto la storia di questo prodotto dell'eccellenza regionale. Grazie a tutti.